20 febbraio in lui Cristo abbiamo la redenzione il perdono dei peccati Colossesi 1 14 perdonati da Dio il perdono di Dio una necessità che riguarda tutto il genere umano la Bibbia ci insegna che agli occhi di Dio non ci sono peccati che possono fare a meno del suo perdono il termine peccato significa mancare il bersaglio indica la condizione in la quale versa l'uomo peccatore egli è mancante agli occhi di Dio per quando l'uomo cerchi di sopperire alla propria condizione spirituale con un buon comportamento aiutando il prossimo cercando di esaltare i meriti personali la propria giustizia agli occhi di Dio rimane un abito sporco l'unico vero rimedio per il peccato è Cristo Gesù egli il figlio di Dio il santo colui che non ha conosciuto peccato è venuto sulla terra e ha pagato con la sua vita il prezzo del riscatto per il peccatore il peccatore che si ravvede della propria condizione di peccato nella quale versa solamente confessando a Dio il proprio stato di peccato e invocando la sua grazia il suo perdono con tutto il cuore ottiene il perdono di Dio caro lettore ha Dio perdonato i tuoi peccati non importa se sei una persona brava o un peccatore incandito riconosci di peccatore chiede al Signore di perdonarti egli redimerà l'anima tua e tu diventerai una nuova creatura in Cristo Gesù Grazie a tutti